Ciao a tutti, non voglio disturbare la serata di nessuno, non voglio fare irruzione alla vita di nessuno. Qualcuno di voi mi ha chiesto un intervento subito dopo Francia e Inghilterra ed eccoci qua. Io devo dire la verità, non dimentico mai che Herbert Kilpin era inglese e quindi essendo il nostro fondatore inglese, soddisfazione o esultanza o gufate nei confronti dell'Inghilterra e non riesco mai a farla. Però oggi non è una questione di Inghilterra, è una questione di Olivier Giroud. È la questione che questo giocatore infinito, questo giocatore meraviglioso, a un certo punto la partita diventa il suo regno. Avete visto oggi, oggi la partita era dura, l'Inghilterra ha giocato una grande gara. Io dico che la Francia ha vinto con i colpi ma come squadra avrebbe meritato di più l'Inghilterra. Però quando la partita diventa dura, avete visto l'arte infinita di Mbappé che non è riuscita a incidere, a un certo punto quando l'area di rigore ribolle, quando il punteggio è stretto stretto, quando il pertugio per passare è stretto stretto, eccolo lui, eccolo lui, eccolo lì, eccolo Olivier Giroud, eccolo che colpisce al volo di piatto e Pickford riesce a deviare in angolo ma poi sull'azione successiva, passaggio di Ter Hernandez a Griezmann, il cross di Griezmann e la zampata di Olivier Giroud. C'è stata, è vero, una deviazione di Maguire, probabilmente non fosse intervenuto Maguire, Pickford la poteva anche prendere, però insomma la deviazione di Giroud induce quella di Maguire e c'è il gol del 2-1 della Francia. Un gol pesantissimo, un gol per il quale è stato Mbappé ad esultare davanti a Reoli, perché stasera si è preso il quarto di finale, si è preso la partita, l'ha sbatacchiata a un certo punto, la partita era a mezza e mezza, è vero che dopo il pareggio di Enrique in su rigore la Francia era tornata ad attaccare, però in quei momenti se c'era uno che poteva far gol era lui. Poi Teo Hernandez ha fatto questo fallo da rigore che c'era e Enriquein ha calciato alto, quindi è un'azione che ci dice due cose, che Teo deve stare attento in area di rigore, però c'è questo lato emotivo di Enriquein. Già al primo rigore Enriquein mi aveva dato la sensazione, io cerco sempre di analizzare gli sguardi, cerco sempre di leggere il linguaggio del corpo prima di un calcio di rigore, pensavo sbagliasse già il primo. Il primo l'ha calciato bene, il secondo è chiaro che se c'è Enriquein deve tirarlo lui però col senno del poi avrebbe anche potuto cambiare rigorista Southgate, anche se il senno di poi non esiste, ricordate il derby d'andata dello scorso campionato, l'Inter cambiò rigorista e le cose per loro non andarono bene. Però c'è questo lato emotivo di Enriquein, ricordiamocene in occasione del prossimo Milan-Tottenham-Tottenham-Milan, c'è già la corsa al biglietto per l'ottavo di finale di Champions League, oggi peraltro era un duello tutto Tottenham a un certo punto perché Enriquein che tirava gli olischi era in porta, era un duello tutto Spurs. Quindi Teo Hernandez ha fatto una parita soprattutto difensiva, io credo che Teo sia migliorato molto sul piano difensivo, anche se c'è questo fallo da rigore che c'era. Ecco, è un intervento a centro area, io devo dire il Teo Hernandez che apprezzo nella fase difensiva, il Teo Hernandez sulla fascia, quando chiude sulla fascia, quando chiude sull'esterno area, è migliorato tantissimo rispetto a quando è arrivato in Italia e su questo non c'è dubbio. Ecco oggi c'è stato questo errore che ha rischiato di riportare l'Inghilterra nella partita. Adesso ci sarà Francia-Marocco, Francia-Marocco che viene già vissuto come un derby, il Marocco che fino al 1956 è stato colonia francese, il Marocco che si è già preso una grande rivincita sulla Spagna e adesso potrebbe prendersene una sulla Francia. È chiaro però che l'asticella si alza. In ogni caso il Marocco tra Croazia, Belgio, Spagna e Portogallo di vittime eccellenti ne ha già fatte tutte europee e quindi vedremo se sarà il turno anche della Francia. Felici, felici, tanto felici per Olivier Giroud che alla sua età ha stabilito un altro record, quello di aver segnato quattro gol ai mondiali oltre i 36 anni, ne parlavano i telecronisti Raido, Portogè Miglià tocca Olivier Giroud e insomma da storia la sua promette di diventare qualcosa di più e più della storia c'è soltanto la leggenda. Però non facciamo i perboli, la semifinale dunque Francia-Marocco da una parte, ci saranno invece Croazia e Argentina dall'altra. Vedremo, vedremo che cosa accadrà. Due squadre europee, una squadra sudamericana e una squadra africana. Quindi da tre continenti le squadre protagoniste delle prossime semifinali mondiali. Non c'è il Portogallo. Io volevo riflettere un attimo con voi su questo. Abbiamo parlato nel video precedente di Rafa Leao. Rafa Leao che ha fatto il suo, ha fatto quello che gli è stato consentito. Vedo su tutti i siti critiche unanimi sono esplose anche le familiari di Cristiano Ronaldo nei confronti di Fernando Santos, critiche unanime nei confronti del ct portoghese per aver messo tardi Leao. E su questo insomma non ci sono dubbi, inutile ribadire l'obbio. Però ecco, volevo soffermarmi con voi un attimo su Cristiano Ronaldo. Abbiamo iniziato la giornata parlando di Cristiano Ronaldo per gli scenari di mercato che secondo me in maniera inappropriata vengono affiancati al Milan. Però io mi permetto di dire una cosa sul Portogallo e su Cristiano Ronaldo, conoscendo poco le cose ma avendo una sensazione un po' televisiva, un po' d'esperienza. Un giocatore come Cristiano Ronaldo, se tu pensi di metterlo in discussione durante il Mondiale, non portarlo. È vero che poi il Mondiale del 2002 non è andato comunque bene per la Nazionale Azzurra, perché comunque è successo che ci siamo trovati di fronte a Bayron Moreno e va bene. Però il Trap fece una scelta dolorosa, molto dolorosa, ma Roberto Baggio non l'ha portato. Perché se porti Roberto Baggio poi deve giocare, se tu porti Cristiano Ronaldo deve giocare. Se tu usi una partita come quella degli ottavi di finale contro la Svizzera, per dare un messaggio a Cristiano Ronaldo, per fargli capire che può fuori anche lui davanti a tutto il gruppo, benissimo. Però poi la partita dopo lo devi rimettere, perché se tu porti Cristiano Ronaldo, quello è il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Se tu togli Cristiano Ronaldo la squadra poi perdi identità. Infatti il Portogallo, Gonzalo Ramos ti può fare un exploit, ma due di fila in una partita tutta diversa da quella che ti proponeva la Svizzera. È difficile che te lo faccia. Per cui se tu a un certo punto trasformi il Portogallo di Cristiano Ronaldo da un ottavo di finale a un quarto di finale mondiale, da una partita all'altra nel Portogallo di chissà chi, perché è vero Bruno Fernandes è stato il leader della squadra oggi, però evidentemente per superare il bunker del Marocco non è sufficiente. Qualcuno mi dice che i tifosi marocchini hanno creato incidenti, non lo so, io sto ai colori, alla festa, ai sorrisi dei tifosi marocchini. Poi gli incidenti ci sono quando ci sono grandi feste in generale, possono esserci. Adesso speriamo che l'accoltellato di Milano non sia grave. Qualcuno di voi mi ha detto ma quale tecnica il Marocco si è chiuso tutto dietro. Il Marocco sa chiudersi con intensità, questo io ho detto nel video precedente. Poi resta una squadra che ha sulla stessa fascia Hakimi e Ziyech, che sono due giocatori molto forti e quindi un po' di tecnica c'è. Poi Amrabat è un giocatore in questo momento assolutamente ingiocabile, per cui insomma il Marocco, anche dal punto di vista dell'individualità, i suoi colpi e i suoi giocatori ce li ha. Quindi Olivier Giroud e Teo Hernandez restano nel Mondiale. Gran gol di Oli, un abbraccio forte a Olivier. Vederlo sorridere, vederlo felice riempie il cuore di tutti noi. Poi noi dimentichiamo che Maglia abbia con la sua nazionale, insomma, tra italiani e francesi si sa. Però alla fine Olivier Giroud, almeno per quanto mi riguarda, non so voi, azzera questa cosa. Vederlo felice, vederlo esultare, è insomma una cosa bellissima. Quindi un abbraccio forte a Olivier Giroud, la sua avventura mondiale da protagonista assoluto. Continua. A domani.